Sarà una partita sicuramente per noi molto importante, dobbiamo riprendere quello che abbiamo perso in queste partite e in casa noi dobbiamo fare la nostra fortezza. Cosa manca a questa squadra per arrivare a gestire gli interi 90 minuti? C'è stato qualche calo di concentrazione secondo te o cos'altro? In campo sembrava una partita ormai finita e forse è stato quello che ci ha un po' rovinato la prestazione perché loro non si sono mai avvicinati all'aria e hanno avuto queste due e mezza occasioni, sono stati bravi nel crederci ma soprattutto fortunati. È un campionato comunque molto incerto, il Verona ha pareggiato in casa con la Cavese, non sono mancate le sorprese, chi sono i principali rivali del Pescara? Io vedendo la cassetta del Verona ho un'ottima squadra, loro non hanno pareggiato in casa per due volte consecutive però è un'ottima squadra anche come organico e penso che sia quella che può darci fastidio insieme al Taranto.